Lo ripetiamo. Io penso che non mancherà molto tempo. Secondo me ci vedremo, non dico prestissimo però, abbastanza. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla vostra terra meravigliosa. Ho detto prima, sono quasi 40 anni che vengo in Sardegna. Attenzione, io non vengo in Sardegna per fare il turista del cazzo. Io vengo in Sardegna per lavorare e stare con voi, è una postiera di gassi e lo sapete molto bene, e nella mia terra io penserei lo stesso. Qui vieni in Abruzzo, dai tu restai in cazzo e mi c'è un figlio. Esatto Dani, anch'io. E allora, e come direbbe padre Carmine, Dio benedica, signori e signore, e un grande abbraccio. Io, un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò. Io, un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò. Io, un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò. Io, un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò. E invece che viense a morire, per fare il turismo social del cazzo, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.